Questa volta i naif presenti sono stati bonificati con questa bellissima formula del cuore antico. Io poi ho portato Bonaria che è stata premiata e quindi c'è una dimensione più umana, meno commerciale. Un po' la parola naif era legata a un successo commerciale dei pittori contadini. E questo ha riportato a una tradizione umana, una pittura contro le avanguardie, legata a delle emozioni semplici che però evidentemente incontra e piace perché le cose semplici piacciono come il pane.